Con l'arrivo di ottobre torna il mese rosa, quello tradizionalmente dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Tra i più frequenti ci sono quello al seno, quello al colon retto e il tumore della cervice uterina. La TS di Pavia ha lanciato quest'anno l'iniziativa Autunno in Prevenzione, con una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e agli screening oncologici fondamentali per individuare la malattia prima che raggiunga una fase avanzata. Sono previste camminate e staffette in diversi comuni della provincia e anche un tour della prevenzione. Da domani iniziamo con una staffetta che fa Pavia-Milano, ma che poi prosegue e si ricollega attraverso altre TS, quindi oltre a quella di Milano, Insubria, Monza e Drianza, e arriva poi all'ATS della Montagna, dove questa iniziativa era stata pensata nel 2020-2021, anni di pandemia e quindi di impossibilità, diciamo di fare iniziative sul territorio. E poi prosegue con altre camminate, c'è la camminata di Voghera, c'è la camminata di Pavia del 23 di ottobre e poi stiamo pensando di organizzare, appunto proprio perché parliamo di Autunno di Prevenzione, un tour della prevenzione, quindi con operatori di ATS che andranno sui territori, in varie occasioni, sfruttando i mercati piuttosto che alcune feste o sagre, proprio per riportare la prevenzione più possibile vicina ai cittadini.